Ascoli Piceno, Lega Ambiente e Movimento 5 Stelle contro il trasferimento di impianti di depurazione dal Consid alla CIP. Scopriamo perché nel servizio di Eleonora De Angelis. Ingiusta, illegale e illegittima. Con queste parole Lega Ambiente e Movimento 5 Stelle valutano la volontà del Piceno Consid di vendere i propri impianti idrici alla CIP, il gestore del servizio idrico del Piceno. Mostrano preoccupazione le due associazioni sia perché gli impianti idrici e di depurazione sono demaniali, quindi inalienabili. In pratica non possono essere venduti, sia per le ripercussioni economiche che tale sborso potrebbe avere sulle tariffe applicate ai consumatori. I debiti, insomma, potrebbero finire anche nella bolletta dell'acqua. Infatti, ad alcuni dei nostri amministratori è venuto in mente di ripianare i debiti del Consid trasferendo la proprietà dei depuratori di Santa Maria Goretti e di Campolungo dal Consid al gestore del servizio idrico integrato, che in questo caso è la CIP. Secondo noi è un'operazione che non si può fare, anzitutto perché è una palese ingiustizia ripianare i debiti di un ente pubblico con dei soldi ancora una volta pubblici, perché ovviamente la CIP andrebbe ad acquistare questi impianti spalmando i costi dell'operazione sulle nostre bollette, quindi sarebbe un'operazione che pagheremmo noi. Secondo gli ambientalisti, vendere alla CIP gli impianti idrici permetterà al Consid di estinguere il debito accumulato negli anni, perché verrà spalmato nelle bollette dell'acqua. Insomma, una cattiva gestione che ancora una volta potrebbe finire sulle spalle dei cittadini, già esasperati da un notevole carico fiscale.